Oggi giornata durissima per il chicco d'oro, magari anche per qualche scelta sbagliata, comunque adesso si guarda la fase dei play-off per provare a rimanere in A o vedremo? Ma in realtà noi siamo contenti lo stesso, l'obiettivo era arrivare ai play-off, ci siamo arrivati da seconda e quindi per noi è stato un grandissimo risultato, è chiaro che siamo una bella squadra ma con tutti i problemi del CSI, quindi non è che siamo sempre al completo, abbiamo avuto delle defezioni per tutto l'anno, oggi poi è stata comunque secondo me una bella partita perché loro erano veramente forti ma ce la siamo giocata, abbiamo solo avuto 5 minuti purtroppo di sbandamento in cui abbiamo preso due o tre gol anche per rimpallo un po' di sfortuna, però secondo me il 4-0 un po' bugiardo perché abbiamo avuto parecchie occasioni, abbiamo avuto due pali, capita questo il calcio ma siamo comunque contenti lo stesso. Perché oggettivamente poteva finire sotto 1-0 nel primo tempo e poteva essere giocata nel secondo? Sì assolutamente, secondo me ripeto il primo tempo il 4-0 proprio stato bugiardo, è chiaro che se finisse il primo tempo sull'1-0 o magari anche sull'1-1 considerando che poi noi le occasioni le abbiamo avute e comunque col pareggio passavamo ci poteva stare. Ragazzi allora in bocca al lufo, niente, per la prossima e per la prossima stagione a questo punto? Ma vediamo, vediamo, innanzitutto vediamo i play out e poi vediamo cosa succede, grazie. Grazie mille.